Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi non mi inquadro perchè c'è qualcosa di molto più grande da inquadrare ebbene si ragazzi, sono qui per presentarvi la cassa contenente il G6 lunghezza 1,50 m, altezza 1,20 m per lasciarvi intendere mi arriva, si, al guadro sono in piedi, mi arriva al gomito è arrivato ieri e il cliente se lo verrà a prendere lunedì qui c'è un piccolo elenco di adesivi che io ho tirato fuori appositamente per lui con tanto di miei bigliettini da visita devo ancora mettere i miei adesivi perchè sto aspettando che me li rifacciano niente che dire, questo sicuramente non lo sballo anche perchè come potete vedere è ben inchiodato e non mi va di schiodarlo e poi rinchiodarlo di conseguenza dovrete fidarvi che qua dentro c'è veramente un G6 ma vi posso assicurare che così potete chiederlo al cliente che si farà probabilmente un unboxing fantastico con questa roba qua niente, sono molto felice di aver presentato questo primo park direttamente dalla Germany ringrazio Blackreever, ringrazio il cliente che l'ha comprato e che adesso nominerò anche, si chiama Mirko Conte e niente, io e Woodles vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo unboxing anche se questo non è tecnicamente un unboxing bye bye